Certo, di giorno in giorno diventa sempre più complesso sentirsi orgogliosi di essere italiani, ma io nonostante tutto lo rimango e lo rimarrò per sempre, orgoglioso di essere cittadino di un paese bellissimo, ricco di grandi e belle e stupende tradizioni e che sarebbe ancora più bello se ciascuno facesse quotidianamente davvero il proprio dovere e appoggio incondizionatamente tutta l'operazione che sta portando avanti Matteo Renzi per riformare questo paese, per riportarlo sulla cosiddetta retta via e mi auguro che ci riesca nonostante le molte difficoltà che incontra e i molti sgambetti che incontra a destra e a manca. Certo è ancora più difficile sentirsi orgogliosi di essere italiani di fronte ad episodi come quel funerale del boss mafioso Vittorio Casamonica avvenuto a Roma, funerale con la musica del film Il padrino con elicottero che volava lanciando petali di rose, con manifesto che mostrava il defunto addirittura vestito da pontefice e in tutto questo ambaradan che ci ha fatto una pubblicità terribile nel resto del mondo mi ha incuriosito molto l'uscita del parroco che ha celebrato il funerale Don Giancarlo Manieri il quale ha sentito il dovere di precisare che lui è un giornalista anche lui è un giornalista e allora che cosa vuol dire questo? Mentre dice che anche lui è un giornalista si butta un po' la zappa sui piedi, se dice di essere sorpreso del cancan che è successo, se dice che non poteva celebrare questo funerale, ma come? Il primo dovere di un giornalista è quello di essere un cronista, di essere informato dei fatti, di essere informato dei fatti nell'ambito dei quali opera. A questo punto alla difficoltà di essere orgoglioso di essere italiano, per me si aggiunge la difficoltà da giornalista professionista di essere orgoglioso di essere un giornalista professionista. Grazie a tutti.